Atalanta è più forte, oggi l'ha ribadito, andiamo a casa senza poter recriminare di nulla, ha ampiamente vinto, l'ha fatto meritatamente, noi dobbiamo voltare pagina e ripartire. Per una squadra come la nostra che sta lì sotto a lottare non può stargli a soffermarsi troppo su una sconfitta chiara, limpida e quindi voltare pagina e pensare alla prossima, c'è poco da discutere. Abbiamo regalato il primo gol dopo 6-7 minuti praticamente, quell'intercetto e poi su quel gol l'Atalanta chiaramente è forte, perché è forte e galvanizzata, perché comunque è galvanizzata e si è giocato anche il resto della partita. Siamo stati in grado di sostenerla meglio, secondo me, nel secondo tempo quando poi ho preferito togliere sia Sensi che Fabio, che comunque non ha il meglio della condizione perché avevano qualche risentimento entrambi e quindi lì non valeva la pena rischiarli oltre. bene quelli che sono entrati, però l'Atalanta ha vinto sulle ali di quello che si era costruito nel primo tempo. L'uscita, al di là che l'ho allenato 5 giorni, però poi lo vedi che è un giocatore di carattura internazionale, perché ha personalità, sa le scelte di gioco, c'è poco da dire ti sei allenato dove non ti sei allenato. Quelli sono giocatori che sanno giocare le partite. Mi è piaciuto come mi è piaciuto Sabiri, come mi è piaciuto Ronaldo, come mi è piaciuto Rincone e come mi è piaciuto Augello. Quelli che sono entrati non hanno assolutamente demeritato, anzi, è che la partita è stata giocata in grande apnea. Dirò che la sconfitta va archiviata, fatevi lasciare addosso, me la sorbisco io, ma si riparte pensando alla prossima, perché così deve essere. Ho sempre detto alla squadra che ci sono, prima di questa, 12 partite dove in ogni partita bisogna andare a cercare punti. Questa è andata male, ma non bisogna soffermarsi su questa. Il campionato è lungo, è duro, una lotta lì sotto è agguerrita e quindi è inutile stare a pensare lì, ci facciamo solo del male. Capitolo chiuso, chiaramente i calciatori sanno che comunque questa è una sconfitta che poi pesa, ma bisogna avere la forza, la capacità di resettare e ripartire da domani, perché così sarà da qui alla fine. C'è poco da star fare calcoli, trovare il pelo nell'uovo, sappiamo dove abbiamo sbagliato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e sappiamo anche della forza dell'avversario che lo ha ribadito. Quando le sconfitte sono così, chapeau, onore al merito dell'avversario, punto e si riparte. Grazie.